Mondiali, maxi schermi a Napoli per Argentina nel nome di Maradona. Non c'era certo dubbio a riguardo, tutta Napoli tifferà l'Argentina nella finale dei mondiali in Qatar contro la Francia. Nel nome ovviamente di Diego Maradona. Per sostenere Messi e compagni, la città ha voluto fare un regalo ai tifosi partenopei, verrà esposto infatti a Castel dell'Ovo a un maxi schermo per seguire l'ultimo atto del torneo calcistico più importante per le nazionali. Napoli, il programma in vista di Argentina-Francia ci sarà ovviamente anche una grande presenza di tifosi argentini, che da sempre a Napoli si sentono a casa. Il programma è il seguente, ritrovo a Piazza Dante per poi spostarsi al castello. Quando la partita sarà finita, sia con l'Argentina campione o sconfitta, la gente si sposterà presso un largo Maradona per omaggiare il Pibedeoro ai quartieri spagnoli.